Nome e cognome? Manuel Cangelli Canaletta Domenico Ruolo che rivestite in campo? Esterno alto Esterno alto Ruolo che avreste voluto rivestire quando eravate più piccoli? Prima punta Esterno alto Giocatore preferito della Serie A o dei campionati esteri? Neymar Neymar La qualità che vorresti rubare al compagno e perché? Astuzia L'uno contro uno Se vi dico di descrivermelo con tre aggettivi, quali usate e perché? Motivate Forte, perché è forte, è un gioco in gioco importanti, tecnico perché non la palla e buono Forte in area di vuore, veloce e fortissimo nell'uno contro uno Oltre al pallone sapete giocare a qualche altro sport? Tennis Tresette Dovete portare in vacanza il compagno dove lo portate e perché? A Ibiza A Mykonos Perché Mykonos e perché Ibiza? Mykonos perché è la città bellissima La città bella e poi con un compagno come lui Pizza per le serate Allora io vi dico degli aggettivi e voi mi dite secondo voi il compagno se lo è da uno a dieci quanto? Per Maloso Zero Zero Cacciarone Sette Otto Donnaiolo Donnaiolo Quattro Quattro Sette Attento alla moda? Nove Dieci Dieci anche lui Presuntuoso l'abbiamo già detto Chi si arrabbia di più dei due? Nessuno Chi è più social e quale usate di più dei social? Instagram Anche io Instagram Adesso vi dico di fare pollice su e pollice giù a seconda delle cose che vi dico Amici di Maria De Filippi Partite di tennis in televisione Partite di volley Videogame A proposito di questo chi è il più forte se ci giocate a che cosa sfidereste il compagno? A FIFA 19 Chi è più forte dei due? Beh perde già in partenza Perde già in partenza Torniamo a pollice su e a pollice giù Se vi dico Carbonara Cacio e Pepe Profiterol Gianna Nannini Gli U2 Vasco Rossi Liga Bue Musica da discoteca Chi dei due fa più serate Qual è la vostra serata tipo? Serata con gli amici e poi in discoteca Giocate a calcetto? Vi capita di giocare a qualche torneo l'estate? Quando esultate o anche quando esultate in campo dopo il gol Avete un'esultanza particolare? No Non ne avete nessuna Se vi dico la canzone preferita è di canticchiarla un po' Quindi pensateci bene Questa è la prova canora non si può dire no Io tu corri di gemelli diversi Vai canticchialo intanto lui pensa all'altra Poco poco Tu corri ci sei solo tu con quella porta davanti Intero da segnare Prova a sé Rockstar di sfera e basta Vai cantaci Rockstar Rockstar Due tipe nel letto e le altre due di Ila Gli amici selvaggi tutti dentro attive Se vi dico tra Diletta Leotta e Belen Chi portereste a cena e perché? Diletta Leotta Perché? No Eh Sono motivi fisici Dove? Tu stavo a porzare la sua Sono domini fisici Allora se parliamo invece adesso l'avete canticchiato è il vostro cantante preferito Che genere di musica ascoltate? Per me sfera e basta Allora salutate il compagno con un saluto particolare o in dialetto o come volete Saluto così